Ma buongiorno amici della famiglia minimalista ben trovati sul nostro canale YouTube Come sempre siamo Mirko e Gloria e parliamo di minimalismo, risparmio, crescita personale e sostenibilità In questo caso parleremo di sostenibilità E lo troverete subito dopo la nostra sigla Allora oggi parliamo delle sette abitudini non sostenibili che avevo e che non mi facevano risparmiare A lei A me, parliamo solo di me Perché troverete cose che io ovviamente non facevo Ovviamente Allora io come prima cosa compravo un make up come se non ci fossero domani Cioè è come se per le prossime cento vite penso Perché ho un mascara che è ancora sigillato tipo da tre anni Cioè ho 15 mascara ancora che non ho aperto Ancora non ho stato litiando nulla l'anno scorso Quindi cioè pensate E io parlo Non era vero Io avevo la fissa di Essence Essence ogni volta che andavo da OVS Che comunque sta dentro OVS Essence no? E' quel make up di... OV Essence Stupido Perché in realtà mi sono sempre trovata bene Però mi sa che ho un po' esagerato Perché i mascara costano poco Tipo 3,99 euro 4,99 euro E io facevo tipo scorti Tipo dai che sì Si è fatta a intortare dal consumismo come tutti Dal marketing Dal marketing Dal prezzo Wow Esatto Poi Seconda cosa In viaggio Compravo qualsiasi souvenir possibile e immaginabile Tipo Oddio che carino sta tazza Oddio che carino sta Quello lo facevo anch'io Sto magnete Oddio posso trovarlo solo qui Quindi lo compro Invece adesso compramo solo roba di magna Se dobbiamo fare un regalo a qualcuno In uno degli agi eventuali che si fanno Se prende da magna Roba da magna è sempre buona Molto meglio Quindi risparmio assicurato Ah poi come terza cosa Acquistavo smalti che non mettevo mai Cioè come vedete le mie unghie Sono praticamente nude Cioè senza niente A parte che facendo il lavoro che faccio Adesso Sono in pausa Però comunque Continua che mi guardi a me Facendo l'osso Comunque noi gli smaltini Non possiamo metterli Eh già Per me regola generale Per l'igiene no Però anche prima Non è che chissà quanti smalti Io mettessi Ero semplicemente fissata Che uscivo Vedevo Non so Uno smalto carino Oddio devo comprarlo Perché è troppo carino Quindi devo comprarlo Questa sfumatura di rosa Tendente al rosa chiaro Non ce l'avevo C'avevo solo rosa Tendente al rosa Esatto Più o meno Era questa la cosa Esatto Poi come quarta cosa Acquistavo durante i saldi La qualsiasi Qualsiasi cosa possibile Immaginabile Che ne so Un top Semplicemente perché Stava in saldo Costa 2 euro e 50 Invece di 5 euro Quindi la compro Specialmente la Terra Nova Non solo la Terra Nova Ho comprato Mi ricordo Quando è appena aperto Che c'erano gli sconti Al 50 E' aperto 50 euro E tipo Non era la cassa 50 euro E tipo E non ci aveva La testarina ancora No E ancora non ci aveva La testarina Fidelity Fidelity Ah poi Come quinta cosa Compravo da Tiger Sempre tazze Perché Tiger C'ha sta cosa Che tu entri là Dici No ma non mi serve niente No Poi entri là E scopri che ti serve il mondo Non è vero Scoprivi Scoprivo che mi serviva il mondo Tipo che ne so C'hanno il mappamondo Quello Con Che tempra le matite Wow C'hanno Immancabile Le coppie quelle particolari Quelle spiacciono È una collezione Chiamiamola Non c'hanno costi eccessi Però no Compravo sempre tazze Cioè andavo lì E uscivo sempre con tazza diversa Vabbè Tiger comunque non è che lo denigro Perché c'ha cose carine Però è inutile Posso dire anche non solo da Tiger Le tazze le comprava ovunque andasse Praticamente Sì Comprava Cioè dentro il mobile abbiamo solo tazze di gloria Praticamente No ma Ce n'è una mia E proprio tu solo tazze di gloria Ma me le abbiamo tolte però Perché c'è quella natalizia Quella per bere il tè Quella per bere Di sana Quella per il latte Io le ho delle tazze Però adesso le ho ridotte Sono solamente quattro Solamente quattro È una persona normale Ha quattro tazze ovviamente Invece prima ne aveva tipo Ne avevo tipo Non lo so quante ne avevi Non lo voglio neanche sempre Poi Compravo tantissime cartone di Che poi non utilizzavo mai Perché era troppo carina Tipo no Posso utilizzare mai questa Questa gommina A forma di alpaca No Devo comprare una gommina Per utilizzarla Vabbè le gomme ci posso anche stare Nel senso c'è la gommina Ti piacciono le gommine Di forme particolari Non è detto che le utilizzi Non mi piace ancora La cartuleria No no certo Però comprare le penne A dismisura Comprare matite a dismisura Un po' quello che faceva Anche mia mamma Che quando andavo a scuola Da piccolo Diciamo non adesso All'epoca Avevo tipo 57 matite Infatti tuttora ce stanno Ste 57 matite E non so ancora smartite Dopo un indice anni Praticamente Quindi Comprare eccessivamente In quel senso La cartuleria Ci stanno le gommine Vabbè Ci può stare Io compravo particolarmente La cartuleria Quella carina Quella bucciosa Sì ma la penna Con sopra l'alpaca E poi non la usi Perché sopra c'è l'alpaca È inutile Quello era il senso No l'alpaca è carina Non la utilizzerei mai La gomma ok No no io parlo della penna Con sopra Disegnato l'unicorno Quello che ti pare L'alpaca Ma quello io lo utilizzo Di solito No prima no Non hai cominciato adesso A utilizzarla Non ci provare Con i nostri amici Abbiamo fatto una cernita Di tutta la cartuleria E siamo riusciti A trovare un punto Di buttare quelle Che non scrivevano Che non funzionavano più Comunque era troppo carina La roba Per questo non la utilizzavo mai È quello il problema Infatti Poi se sono rovinate Fermi lì Esatto Non la utilizzate comunque Poi come settima cosa Compravo tantissima bigiotteria Che si anneriva Dopo tipo due giorni Che la utilizzavo Perché o col sudore O con la doccia Ovviamente mi dimenticavo Di toglierla Ovvio La cosa più semplice No Mi diceva beh Ho questi orecchini Beh ma li tolo Come riguarda andare in doccia No scherzate Ci facevo tutto E ovviamente dopo tipo Due tre giorni Vedevi che si erano Tutti anneriti E facevano schifo Chissà perché Però vabbè Poi comunque c'è Una pista per Pandora Però Pandora Già diciamo È un livello un po' più alto Rispetto alla bigiotteria Quella schifosa Che se annerisce Però se annerisce lo stesso Infatti Devi comprare Tipo il kit Quello per pulire Lo regalio Da tutti i Pandora I Pandora E un po' come Apple Che ti vende l'iPhone E poi ti vende la pezzetta Che te lo quale Quella di qualsiasi altra cosa Sopra il marchio Apple A 70 euro Perché è la pezzetta Che serve Solo per pulire l'iPhone No però Le che avevamo commesse Dicevano No di inizio sono questa Perché con questa Poi si tolgono Perché poi ho scoperto Che non è veramente argento Va bene È una lega strana È argento Ma non è solo argento Comunque Queste erano le mie Sette abitudini Non sospibili Che non mi facevano Risparmiare soldi Poi dovevo fare anche le mie E dovrei fare anche le tue Fatte Anch'io non compravo Mi compravo troppo make up Pure te Smalti? No quelli no Non mi piacevano Perché poi mi mangio le unghie Però la cartoleria si Cartoleria si Cartoleria si Vabbè Meno di te Almeno se la compravo Poi la usavo comunque Una penna No perché a me erano troppo carine Quindi dicevo No perché devo Modalizzarle Giusto Allora queste erano le mie Sette abitudini Ci vediamo Noi vi vogliamo bene Mi raccomando Queste sette abitudini Se le avete anche voi Scrivetecelo qua sotto Scrivetelo qua sotto Cerchiamo un modo Per risolverle Tagliamo le mani Nel caso dello smalto Vediamo qualcosa Possiamo trovare Adesso non ce l'ho più però Scriveteci 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 Altre Eventuali Abitudini Che non vi aiutano Che avete voi E che così possiamo Confrontarci Sia qui sul canale Sia sui nostri social Come sempre E cercare il modo Per toglierle Esatto E vediamo Se le abbiamo anche noi Magari non ci sono venute In mente Detto questo Noi vi ringraziamo Per l'attenzione Se vi è piaciuto Il nostro video Cliccate mi piace Condividetelo Con i vostri amici Amici Dieci Cioccolato Noi vi vogliamo bene Ci vediamo Al prossimo video Ciao Tataratatatata Ciao 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 Ciao